Poche righe, inviate per conoscenza all'Arcivescovo Emerito di Cosenza, Salvatore Nunnari, e al Presidente della Conferenza Episcopale Calebra, Monsignor Francesco Bertolone, con oggetto la sospensiva dell'Assemblea, convocata per il 20 gennaio prossimo dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime. Il tono della comunicazione che porta in calce la firma del Vescovo della Diocesi di Mileto Nicotera Tropea, Monsignor Luigi Renzo, è chiaro e perentorio il riferimento e i fatti accaduti a partire dal mese di luglio dello scorso anno, che hanno portato poco prima di Natale alle dimissioni del Vice Presidente della Fondazione, Marcello Colloca, e a stretto giro dei componenti del CDA. Nell'Assemblea, convocata per sabato prossimo, era prevista la nomina di 7 componenti su 10 del Consiglio di Amministrazione e di 3 membri del Collegio dei Revisori dei Conti, un'intenzione evidentemente non gradita al Vescovo, che oltre ad annullare l'incontro, comunica la revoca dello statuto emesso dallo stesso CDA il 1 agosto del 2017. Al fine, dichiara, di evitare di mettere in liquidazione la fondazione a discapito della stessa immagine di Mammanatuzza, che certamente, conclude, non merita questo trattamento e non sta per nulla godendo, per questa irragionevole resistenza alla Chiesa, da parte di Codesta Fondazione. Loredana Colloca per la CNews 24.